Buongiorno a tutti, bentrovati o bentornati sul canale, su TIP Adventures, in questo nuovo video. Oggi un video diverso dal solito. Ieri abbiamo fatto la ferrata delle trincee e siamo abbastanza scarichi, quindi abbiamo bisogno di una passeggiatina per rilassarci un po'. Saliamo in Val Duran, vedremo la Malga Friines del Rifugio Micheluzzi. Sarà una camminata tranquilla, senza caschi, senza imbraghi, senza torce, zaino ultraleggero. Un video relax. La partenza è dall'abitato di Campitello di Passa, nel nostro caso dal giardino di casa, dal Clean House North che ci ospita per il terzo anno e faremo una bellissima camminata e poche chiacchiere. Quindi si parte e vediamo cosa ne viene fuori. Ciao! 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 Grazie a tutti. 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 Bene amici, il nostro video relax finisce qui. Spero vi sia piaciuto, un video un po' diverso dal solito, con i rumori della natura, giusto un po' di sottofondo per accompagnare. È stata una bella camminata, molto corta ma bella. Siamo arrivati al rifugia, siamo arrivati al rifugio Lino Bach e adesso riscendiamo lo stesso sentiero fino ad arrivare praticamente nel giardino di casa. Se il video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere i prossimi contenuti anche di questo tipo e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao. Relax. Relax.